Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo il video di Vampira per Halloween. Questo è il secondo makeup Halloween. Utiliziamo sempre la palette di Palopy e più la palette di Cisteo Barocco di Neve Cosmetics. Utiliziamo anche la mia mattina Pastello Liquidizia Nero di Sampanineve. Adesso farò il mio primo classico occhio e ci vediamo tra poco. Eccomi ritornato. Ho trovato il bianco cream makeup. Questa mi sembra che avevo comprato il colorful tempo fa. Quindi avevo già passato il bianco. Voi ovviamente non lo vedete tanto. Allora iniziamo con il nero. Prima utilizzo la matita e ho potuto cambiarla perché non avevo la punta e non mi ricordo dove è. Il temperino è quello grande. Allora iniziamo. Allora iniziamo. Allora iniziamo. Allora iniziamo. Io lo lascio così. Altiviamo le dita. E prendo il nero. e adesso metto sulla palpebra mobile e un po' anche fuori. Non deve essere preciso, non deve essere perfetto perché questo è un make-up di Halloween, potete andare sotto o sopra dove vi pare. Poi utilizziamo un plattineve, questo è un barocco vecchio, Hamburg. Lo metto qua sopra, sempre la palpebra mobile e vado su e giù. Certamente sono vampiro, sembro che mi ne ho tirato i pugni infatti ma in realtà è così il make-up. Non deve essere uguale, non deve essere perfetto. Io continuo a ripetire, mi prendo il nero, tanto che fai una sfumatura. Qui intanto posso del nero già per portarmi avanti. Poi prendiamo il rossetto di Chabier della Kewl Vintage che ho utilizzato un'altra volta. Sì, un po'. Sì, un po'. Sì, un po''. 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 Sì, un po'. Sì, un po''. Sì, un po'... Sì, un po''. 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 C'ho i denti da vampiro, poi metto anche lo smalto, però questi qua li ho comprati. però non entrano guardate qui che rideini bambina poi mi ha sbavato anche qua davanti così per fare c'è la fumina prendo lo smalto neo il look è finito adesso ho anche lo smalto neo un make up bambina è tutto troppo i denti non mi entrano sono piccoli piccoli questo video make up Halloween 2017 è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale iscrivetevi al secondo canale se avete usato i video game questo video è tutto ci vediamo ai prossimi video make up tutorial di Halloween questo video è tutto alla prossima ciao ciao iscrivetevi al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti.